Questa domenica in alcune strade di Roma saranno create delle piccole isole pedonali, alvia dunque le pedonalizzazioni temporanee in alcuni municipi. Sarà un'occasione di festa nella quale i cittadini potranno riappropriarsi delle strade del loro quartiere, le strade saranno liberate dalle auto e i cittadini potranno così passeggiare, peraltro nelle vie dello shopping, stare insieme e respirare aria pulita. Questa è una formula che stiamo iniziando e vogliamo poi proporre e replicare in tutta la città. Riteniamo infatti che i cittadini debbano finalmente riprendere possesso della loro città.